18-45-20 ISO 100 e V-07 si sceglie di non oscurare troppo ciò che è già piuttosto filtrato dalle nuvole. Il fatto di vedere il colore del mare fa capire che stiamo lavorando con luci e sensibilità piuttosto elevate. Dobbiamo capire se quello che vediamo è il disco del sole o è la diffusione dello stesso sonnubi di ghiaccio ancora più dietro di queste scure che vediamo. Dieto in petto c'è un natante, l'ingrandimento è al massimo, il natante sembra fermo. L'ISO non è sufficiente, cioè sta toccando la superficie del mare, il sole, ma non riusciamo a capire se è un riflesso.